Come va tra Alice Perego e il suo fidanzato Puccio? Ecco tutti gli aggiornamenti sulla presunta rottura. Sono giorni che ormai tutti si domandano se Alice e Puccio si siano lasciati oppure no. Per far cessare le domande dei followers, la creator ha scelto di pubblicare alcune storie sul suo profilo Instagram. Alice infatti è stata accusata di fregarsene e di continuare a postare video, fare la sua vita, come se appunto non le interessasse di questa storia con Puccio. Ha scritto che non le va di essere dipinta come la cattiva della situazione ingiustamente, proprio perché tra loro non c'è nessun cattivo. Ha spiegato poi che queste situazioni ognuno le vive a modo proprio. C'è chi sta male prima, chi dopo, chi di più e chi di meno. C'è chi scrive una canzone come Puccio e chi invece come lei festeggia giustamente il suo compleanno. Nella storia successiva ha poi parlato direttamente della canzone di Puccio, dicendo appunto che questa canzone è stata fraintesa e resa oggetto di istigazioni e commenti negativi e che lui in realtà invece l'aveva scritta solamente per esternare le sue emozioni e i suoi sentimenti, quindi per aiutarsi. Ci ha tenuto a precisare che loro non sono in nessuna guerra e che tantomeno devono crearla i fan e che anzi loro si rispettano e si sostengono sempre. E quando appunto saranno d'accordo sull'esporsi, allora lo faranno. Fateci sapere che cosa ne pensate delle parole di Alice e dalla redazione web per oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.